Vengo dal Camerun, sono in Italia da un anno e sei mesi. Ho studiato l'infermiere, ho fatto l'infermiere nel mio paese, ma quando sono arrivato qua ho riuscito a continuare questo lavoro e ho cambiato un altro mestiere. Ho avuto l'opportunità di cominciare una formazione in meccanico utensile a scuola camerana che dura sei mesi. Alla fine della formazione devo fare lo stagio e io spero di essere assunto.